...e anche a tre opere dello stesso cuore. E voglio aggiungere altro rispetto alla figura di Vincenzo Navarro, anche se è una figura che va conosciuta come diceva il Consiglio di Inglese e anche il terzo ragazzo, il professore ragazzo, è ancora meglio, soprattutto la fatta conoscere ai giovani. E noi, in un'occasione di una presentazione di tipo organizzata dal professore ragazzo a Rivera, abbiamo con lui un progetto che in realtà era un progetto che già abbiamo deciso di portare avanti con la nuova gente dell'istituto complessivo di Posto Navarro, la professoressa, e non è una parte di cui ho ripreso l'attuale regente e Maria Rosario, la professoressa, la parola che ovviamente oggi faccio i miei migliori auguri perché è diventata presa e ce la vediamo di bene, non con la regente, adesso ce la vediamo come dirigente scolastico di tutti gli istituti superiori della nostra città. E per questo io voglio inserire la mia soddisfazione che è una parte di cui ho ripreso l'attuale regente scolastico di un'attuale regente scolastico di un'attuale regente. di licenza nella nostra città. Iniziativa come questa è stata portata avanti, stavo dicendo che l'avamo programmato grazie anche a una disponibilità di un altro artista nostro locale, che è l'amico Alberto Ciavola, che ha realizzato due busti di licenza. Che ne farà omaggio, torno a lui, alla Comune di Pitero e quindi alla città. Uno verrà collocato, purtroppo non ha fatto il tempo, per la normalizzazione di oggi, che forse va bene così, perché oggi diamo il giusto spazio, merito, partito, cappella. Uno verrà collocato nella nicchia che c'è proprio scendendo le scale, la loro consiglia, e l'altro lo sarà posizionato presso il personale della scuola e in quell'occasione, parlando neanche con altri docenti, docenti del passato, il professore Spiraci, e i docenti contemporanei della scuola, vorremmo proprio, con la parte di questa iniziativa, che ci si dedica a presa di Provenza, a quello che parla con i nostri personaggi, più importanti, che hanno un'idea, e che vanno a conoscere, soprattutto, le nuove generazioni. Giorgio Ramaglio, quando ho detto, molto meno effetti che faccio tutto, e non soltanto è stato un merito capace, e persone illuminate, è stato scrittore, letterario, delle sue cose, delle sue poesie, raccontano della nostra città, della nostra comunità, del nostro territorio. Ma è stato l'accumulo, e poi c'è una sorta lotta, perché combattendo anche dato in là, perché si allontanasse la coltivazione delle salve.